Una lunga e travagliata attesa, fatta di lotte, promesse e illusioni, anni di buio vissuti in condizioni assai precarie per molte famiglie ad Ariano Irpino e c'è chi come Sergio Baviello, 51 anni nel frattempo ammalatosi, che è arrivato su una sedia a rotelle a scegliere la sua vera casa, ma per lui e la sua famiglia oggi è un giorno felice. Dopo tanti anni, quasi 28 anni, ho riuscito a vincere il mio scopo personale. Tutti gli anni ho fatto la mia domandina per un alloggio popolare e è arrivato la fine. Anche se attualmente sono alloggi precari, piccoli, per appoggiarci è sempre bene. Risparmeremo un sacco di soldi di fitto, pure perché c'è un problema di salute e mi servono per un altro scopo. Ringrazio tutta l'amministrazione comunale, gli impiegati del comune di Ariano Irpino e alla prossima. È stata dura in questi anni? È certo che è stata dura, un disoccupato, con sette persone a carico, nessuno lavorava. Quel poco che guadagnava mia moglie è stato durissimo, grazie anche a mia mamma che è morta, a mia socia mi ha aiutato parecchio.